E' cominciata stamattina la due giorni del Consiglio Comunale dedicata al bilancio di previsione 2013. L'assessore Salvatore Palma ha illustrato le delibere di accompagnamento propedeutiche al bilancio, ricordando che l'adesione al Decreto Legge 174 sul predisesto impone di elevare al massimo la leva fiscale. Al momento l'Aula ha già approvato i provvedimenti che riguardano l'IMU, per la quale c'è l'obbligo di aumento delle aliquote dal 5 a 6 per 1000 per la prima casa e dal 7,6 al 10,6 per 1000 per gli altri immobili. L'imposta di soggiorno, con l'aumento di un euro solo per gli alberghi a 5 stelle lusso, mentre per quelli di categoria inferiore diminuisce di 50 centesimi. L'IRPEF, per la quale a tutela delle fasce di reddito più basse si alza la soglia di esenzione da 10.000 a 18.000 euro. E' la TARES, con aumento per i nuclei di più di 5 persone, una riduzione automatica del 20% della quadratura degli immobili, una serie di agevolazioni per le fasce deboli ed infine alcune misure innovative, come la riduzione della tassa del 30% per chi adotterà il compostaggio domestico. La giornata sarà lunga e quella di domani probabilmente lunghissima. Quello che è importante evidenziare è che l'amministrazione comunale e oggi anche il Consiglio stanno cercando di mitigare la durezza delle imposte che lo Stato ha in qualche modo indicato per l'amministrazione comunale. Non dimentichiamoci che la città di Napoli è in un contesto di normativa sul cosiddetto predissesto. Quindi le imposte che i cittadini pagheranno a bilancio approvato non sono imposte nella loro aliquota massima decisa dall'amministrazione comunale. Nel senso che noi ci dobbiamo muovere in un perimetro che non possiamo sforare appena il dissesto della cittadinanza. Oggi si sta facendo una discussione importante che noi avevamo già indicato con l'approvazione del bilancio, tesa a intervenire laddove possibile per rendere meno dure le imposte e le tasse della nostra città. Faccio alcuni esempi, siamo intervenuti sull'IRPEF ad esempio aumentando il livello di esenzione totale della tassa. Questo è importante perché per alcune fasce reddituali non si pagherà addirittura l'IRPEF. Le novità più significative a mio avviso, ma su questo potranno essere nel dettaglio più precisi l'assessore Tosodano e l'assessore Palma sono per la Tares. Questa è un'altra tassa che non è una tassa del Comune di Napoli, ricordiamo, è una tassa da un lato nazionale e dall'altro soprattutto provinciale. Noi siamo intervenuti incidendo su un principio che come prospettiva futura noi condividiamo, cioè quello che paga di più chi consuma di più. Quindi ci sono degli interventi significativi con riduzione della tassa per chi ha comportamenti virtuosi sui rifiuti, dal compostaggio ad altro e credo che questo sia un fatto significativo. Quindi gli interventi che la Giunta ha fatto e che oggi anche il Consiglio sta facendo nella stessa direzione è quella di rendere le imposte meno dolorose per la città.